ciao a tutti sono carlo petersoli e oggi voglio esprimere tutta la mia solidarietà verso quello che è un tema molto delicato e che tengo molto a cuore quello sulla violenza sulle donne e mi ritengo assolutamente contrario a tutti i tipi di violenza verso le donne e sostengo appieno la causa al cento per cento